Il nostro è un mondo nuovo di zecca, fatto di subitaneità. Il tempo è cessato, lo spazio è svanito. Ora noi viviamo in un villaggio globale, in un avvenimento simultaneo. La simultaneità e la possibilità continua di contatti e rapporti tra tutti gli esseri di questa realtà ci rimettono in contatto con la nostra essenza primordiale. Si formano così le premesse per un rinnovato rapporto autentico con la natura, essa stessa organismo vivente, madre di tutti gli esseri che popolano la terra. Di noi uomini, ormai cittadini del mondo, che possiamo infine con l'ausilio delle tecnologie più moderne sentirci a casa, in parca, in ogni punto del globo. La metropoli, la città, la provincia, il villaggio. Ogni punto del globo è un potenziale umbelico del mondo. Nel terzo millennio la società e la stessa natura umana vanno ridefinendosi. Un Big Bang culturale che ci trasforma in molecole collegate fra loro. Uno spettacolo sensoriale, sonoro, visivo, olfattivo, gustativo, tattile. Da queste premesse nasce il Big Bang Music Fest. Una manifestazione musicale, cinque giorni di concerto, un'esperienza da vivere. Perché la musica, vissuta, è tutta un'altra cosa. La musica, vissuta, è tutta un'altra cosa.